ciao a tutte ragazze bentornate nel mio canale benvenuti in questo nuovo video video tiger non ci posso credere è tanto che doveva farlo infatti era la in un angolo e adesso ho trovato il tempo per girare il video il mio primo video tiger non sto più nella pelle di farvi vedere quello che ho acquistato allora la borsa è piena sono due ordini e due sondata due volte purtroppo allora il tiger che dove sono riuscita andare io e quando ero al mare fanno center e lì hanno prima c'era la ocean adesso c'è il conad ma hanno prolungato tutta una parte dove io sono andata con molta calma finalmente ho visto che c'era il tiger e sono andata dentro a curiosare ho preso qualche cosina non è tanto grande purtroppo per cui non ci sono quelle meraviglie che io vedo vedo nei video purtroppo per cui comunque vi faccio vedere quello che ho preso io allora aspettate che la tolgo e pian piano ve la faccio vedere allora prima cosa dolcissima gli ossetti di liquidizia io amo la liquidizia amo gli ossetti di liquidizia per cui ovulato ho provato a prenderli sapete che brava non li ancora toccati e io preso uno non so cosa costano non so niente mi ricordo niente cosa costano per cui poi ho voluto prendere questi perché li ho visti tantissime volte non ma tanti cioè tutti li hanno comprati sono il marmello piccolino come facevano prendere il tempo lo vuoi come facevano prende poi ho preso allora ho preso questo specchio qua che non è sporco di più dove praticamente lo metti così dovrebbe essere così giusto esatto ciao giusy oddio allora niente lo specchio dove magari volevo provare a truccarmi con questo ciao giusy basta e è bello è veramente bello soprattutto perché rose molto sporco adesso lo puliscono ea il gancio questo per tirare e chiuderlo molto utile poi ho preso questa agenda bellissima questa la propagata 3 4 euro non di più quando l'ho vista non potevano prenderla solo per il colore e solo perché tutta glitterata dentro ea righe perché adesso mi si mi ci sono messa pure anch'io a scrivere eccetera sto scrivendo un po di cose così molto bellissimo bellissimo poi ho preso queste paper clip sono una più bella dall'altra dietro fante così portate che carina mi sembra un euro delle pagate c'è l'ombrellino gli occhiali la palma il costume il gelato bellissimo uno più bello dell'altro piace tantissimo poi ho preso un attimo ecco queste penne qui aspettate dopo tutto lì allora queste penne qui sono in gel ne ho già data una a mio marito e sono penne che scrivono benissimo queste le ho prese per mio figlio per la scuola ve la faccio vedere come scrive perché le penne in gel di solito che si prendono dai cinesi sono veramente stupendi scrivono benissimo sono veramente belle allora per un euro i due penne sono fatte così con l'attività e che c'è se vedete anche aspettate un secondo è c'è il pallino per proteggere la punta guarda pensate un po che roma c'è allora ecco se posso vedere come scrive guardate scrive benissimo cioè anna scrittura guardate che colore c'è è stupendo c'è veramente 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 belle e ne ho prese tre nere due rossi una rossa e giù blu poi ho preso questo penarelli questi due penarelli qui permanenti per scrivere io l'ho pensata per queste per scrivere le tip l'ho pensata 4 anche perché sono costate veramente poco la punta prima che faccio casino ecco è così poi in italia c'è qui in italia qui e semmai nei centri commerciali qua queste cose che c'è veramente le paghi un patrimonio poi ho preso questo me lo ero di me l'ero dimenticata allora sono sticker a specchio dove io volevo metterlo alla base della mia lampada perché è tutta bruttina bruttina per cui volevo sono adesivi e volevo provare a metterli vediamo come sono purtroppo ce n'era solo uno fucsia e sapete che io amo il fucsia guardate che meraviglia è proprio è proprio l'estero capito non vedo l'ora di sistemare poi ho preso vabbè c'è lo scontrino che non ce ne frega niente un'altra penna è spassentato fuori l'ultima l'ultima cosa vogliamo farvela vedere che adesso mi sa che non servirà più è la ciotola costata solo 4 euro la ciotola rinfrescante per il cane per il mio birba aspettate che la apro così ve la faccio vedere eccoci qua allora la ciotola in questione questa praticamente questo qui va del freezer si congela per bene poi lo mettete qui lo riempite d'acqua e il vostro cane ha sempre l'acqua fresca bellissimo adesso ne lo faccio solo lo vado subito usare niente ragazze questo qui è tutto il mio bottino mio primo acquisto da tiger ho visto che qui vicino a me il tiger sta più o meno dove c'è l'ikea per cui quando vado lì andrò sicuramente anche la tiger a fare acquistini e questo è tutto il mio no la rampa non c'entra niente di tutto il mio bottino spero che le cose fatemi sapere cosa vi piace di quello che ho preso da tiger e questo mi fa buoni e niente ditemi voi cosa acquistate da tiger se avete domande richieste scrivetemi sotto un bacio ragazze prossimo video